e io ho notato che con la crisi bisogna essere contenti anche se uno non lo è per vivere meglio bisogna assolutamente fregarsene dei soldi innanzitutto allora si sta bene e poi volevo fare gli auguri alla Michela che compie gli anni oggi, grande Michela, un giorno meraviglioso per te ho potuto sei ho potuto sei io ho potuto sei senti ho potuto sei io ho potuto sei sono di fio che giù posso fondere un guerra all'acce in anni in Paris Grazie a tutti.